bella a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video sono Andrea Slayer e prima di tutto ragazzi volevo salutare un mio iscritto che si chiama Bianco Mastrangelo e dove sto andando ma che che non si capisce niente oggi siamo in un parkour di roblox ragazzi un parkour infame non si capisce dove c'è da andare ok l'ho preso qua стало spожно Ma Scriviti. While I popped off then your girl gave me just a little bit much up Baby si cool he from the nerdy from theczęta bankroll So low, I got nothing else that I can't withdraw Ran up the door I shot my wrist, it go like shah, 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 shah I got your bitch singin' la, 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 la I shot my wrist, it go like shah, 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 shah I got your bitch singin' la, 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 la How I stride like that Amex, no cap, ain't underscore They wonder how How I go up like that I rap my lyrics when I perform They wonder how How I stride like that I'm conny but you're good, you want to death Oh, again Ok, comunque se volete vedere il mio nome là in basso, in alto a destra c'è scritto Dark Kog Muoviti, muoviti fra Sono un pro, sono un pro Ma no, ma no, ma che palle E' di là perché mi spawno dall'altra parte se devo andare lì Ma che palle Spawnami da questa parte almeno Will you like to buy a skip? No, non va, non voglio Bagliare lo skip Mamma mia What a, what a player Venga, Roblox mi piace un botto E' un gioco fighissimo Se non ce l'avete installato, vabbè, fa niente Comunque vi consiglio di installarlo Sia sul telefono Non vi metto neanche il link in descrizione Basta che scrivete Roblox su Play Store Poi se il vostro dispositivo non è compatibile Provate a installarlo da Google Che ne so io Allora Perché mi dice 30? Ma sono sicuro che ho fatto veramente 30 livelli Ma non mi sembra Mi sembra di averne fatti solo 20 Vabbè Si vede che ne avevo fatti 30 Volete dire che io potevo anche non saltare Ma ho saltato In tutto questo tempo potevo non saltare, raga Guardate Ho saltato per niente in tutto sto tempo Ma sono un abbo Vabbè, qua devo saltare Perché c'è troppo spazio in mezzo No, che palle Faccio così Faccio come il pro Ok, qua 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 Eh, me che ne Qua Nye Che palle Tu 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 Sali, fra Ma che cazzo Guardate, che palle Che palle Palle, madonna Palle Sì, ma che palle Sì 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 Perché ho scritto Io a shit Vabbè ok Ecco Tutto c'è in su Va bene ok Ok no raga ok Ho capito che devo fare tutto con caldo Vado qua Poi salto Vado qua Salto Vado qua Salto Mi nascondi sta chat che mi ha rotto le palle fra Salto Oh Alelui No ma che palle Ancora sti livelli di merda Faccio solo un pro Faccio tutto di fila One shot Yeah boy Qua basta che non salto Come al solito Perché qua fanno i livelli infami Si può anche non saltare Però c'è da stare attenti Perché se muoio io sclero Uff Ce l'ho fatta a livello 40 Se vede che siamo veramente a livello 40 Io che non so contare raga Cos Cos No 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 Ok 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 Ci sono ci sono Ah questo è morto Fallito Fra Sei scarso Fra sei scarso Quello lì è scarso Non è come me Io sono Ok Anche io sono scarso Oh Oh Attenzione Cosa fa Attenzione Non ho capito cosa c'era da fare In sto Va bene Muoviti Cammina Fra Cammina Fra Cammina Ok Sono scemo Ah godo Sei caduta godo Sono più avanti io No No reconnect Oddio raga No No la connessione del Gesù Ma che palle Spero che sono ancora nel gioco eh Oh No 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 Non mi dire che devo rifare tutto No eh Uh Sono ancora qua per fortuna raga Mi suicida Ma che palle Oh io ho connetto i giga Mi sono rotto le palle Alla base Riconnettemi Riconnetti i giga Mi sono rotto i coglioni Si può fare un cac Ti ho po Raga ti ho po Eh si grazie grazie Avete il gioco buggato Sapete Cioè in realtà il mio wifi ha buggato Oh 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 no no Faccio tutto one shot Eh però se non gira Che palle Hide ste cose che mi hanno rotto le palle Posso semplicemente Sì Sono un pro tu 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 no vabbè, ok qua c'è da fare sta roba qua sto trick il giallo no il... il blu no il blu no e sarà il verde allora il giallo il giallo si il blu no il rosso no il giallo si quindi è verde, giallo, giallo, ok no no quando ci sono le palle a me non mi va bene quando ci sono le palle invece si attenzione mamma mia, no, non voglio skippare il livello sono un proio, mi dice di skippare il livello sti nabbi, cosa skippo io non skippo o forse si è meglio skippo, no stavo ritornando indietro avanti fra avanti fra, avanti fra no prenditi sto minchia di livello cosa c'è da fare cos'è sto coso ah c'è da andare solo sui cosi verdi forse no forse ho capito male io ma che ne so oh bene che ca... ok, va bene vabbè easy no, ah in quello blu non si può andare ecco fame di merda ma cosa è un troll nooo rega sto livello è troll se vado nell'ultimo muoio come cazzo faccio ma... cosa... qua allora no rega che livello infame non lo so vabbè ok, va bene cosa... in quello rosso... ah in tutti e due ok, posso andare in tutti e due no no non avevo però anche io no no fra che palle vabbè rega non ne posso più non ne posso più non lo so fermo fra fermo salta voglio arrivare a livello 60 almeno eravamo al 50 prima no salta fra vabbè pochi livelli oh rega 60 livelli così vabbè che i livelli sono facili salta nelle palle rega delle palle le palle fra le palle ma che palle ste croci scusate quante volte avrò detto palle in questa... in questo video ma oh rega mettono delle stesse cose in ogni video cosa c'è da fare qua che è? ma what the fuck mettono... prima mettono i livelli delle palle da saltare che sono un po' di... e poi mettono le cacate così va bene ok c'è da andare in quello bianco ah no c'è da andare in questo vabbè faccio così io eh no della serie volevo della serie proprio volevo? no no forse... forse ce la posso fare non ce la posso fare raga ce la posso fare no non ce la posso fare devo fare per forza questa cosa qua vabbè è easy non muoio io non muoio sono... è easy è easy è easy fra... no ma che è? che è sta cosa? no ma che è? uff 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 ok sono proprio... ma che livello sono? oh ma che è? ce ne sono due... chi è che ha fatto 2100 livelli? secondo me nessuno che livello sono? non posso vederlo che palle livello 60 ci siamo arrivati ragazzi allora se volete che... faccio un altro parkour simile a questo ragazzi ditelo nel... ok dite in descrizione se volete che faccio un parkour simile a questo ragazzi nel... cioè... oh ma che palle dite nei commenti se volete che faccio un altro video parkour come questo diverso perché non mi va... non mi va di fare altri 60 livelli poi registrare dagli ultimi 60 livelli quindi ragazzi niente io spero che questo video vi sia piaciuto come al solito raga lasciate like ehm... ehm... lasciate like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto perché ragazzi siamo a 825 iscritti siamo quasi a 1000 iscritti e a 1000 iscritti farò un bello speciale ragazzi ehm... farò uno speciale che ci devo ancora pensare ma forse ne ho già uno in mente comunque raga come stavo dicendo iscrivetevi al canale che siamo quasi 1000 iscritti e niente non ci rivecchiamo ah... condividete il video con i vostri amici raga ditelo nei commenti se volete che faccia un parkour simile a questo oppure un'altra mappa di roblox un'altra cosa voi ditelo nei commenti e niente io poi lo farò nel prossimo video e niente ragazzi noi... io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci rivecchiamo come sempre ad un prossimo video bella perché sto finendo sto livello? siiii voglio fare l'ultimo livello uff 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 ok raga e niente ci rivecchiamo a un prossimo video bella ciao 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 ciao